Avete notizia delle navi che stanno partendo con i rifiuti della Campania? No, no, non so niente. No, no, non so nessuna notizia. Siamo che vanno in Sardegna, anche in Sicilia. Le navi cariche di rifiuti partono dal porto di Napoli in un'atmosfera di assoluta segretezza. Nessuno dà indicazioni come se ci fosse un ordine generale di mantenere il silenzio. Dopo le violenze in Sardegna neanche alla Capitaneria viene indicata la destinazione. Mentre quindi per le navi di linea viene sempre comunicato alla Capitaneria di porto di partenza lo scalo di provenienza insieme con il giorno e l'orario della destinazione, nel mondo dello shipping, cioè nel trasporto di merci, è possibile che venga indicata la destinazione per ordini. Formula che si ritrova, dicevamo, anche per le navi cariche di rifiuti in partenza in questi giorni dal capoluogo campano. In sostanza non si sa in quale porto approdare, sia per motivi di ordine pubblico che per motivi tecnici.